quando sei un gruppo che spinge forte questa può essere una lama a doppio taglio perché comunque chi abusa nello spaccare rischia di non costruire e questo lavorare su essere loro stessi i little pieces of mermaid è la cosa giusta per carità per lavorare con due ragazzi così che suonano come fossero 500 cioè operazione sabotare x factor riuscita fin qui tutto bene ed è comunque bello perché sembra di ascoltare una band internazionale di non so quanti anni fa magari la regia televisiva che me li fa anche apparire moderni l'attitudine punk c'è che comunque o ti fa suonare vecchio e fuori contesto ti dà quel valore aggiunto che nella prima puntata secondo me avevano oggi sento che hanno un po' perso cioè loro per carità sono fuori mercato qualunque cosa fanno e non so se è finito l'hype di x factor continueranno a mantenere come direbbe primo e tormento perché visto che Manuel ha citato la mia coccinella di sottotono non sapevo che l'avesse prodotta lui addirittura però a parte questo io ho preferito la loro canzone inedita c'era quel hu 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 no nel ritornello che faceva la differenza un piccolo frammento chiamiamolo pop però vabbè non è roba che interessa a questa tipologia di a chi ascolta magari un gruppo così però cioè ci stava dentro quel pezzo aveva 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 più sfumature qui invece gli ho sentiti monotono nel loro nel loro mondo che però non lo so Emma per una volta ha detto una cosa giusta cioè che hanno fatto loro la canzone ma fino a un certo punto cioè cioè se è melancolia che fanno comunque un genere simile comunque sono la vera rivoluzione sono sono più riconoscibili come gruppo hanno un marchio loro più intenso questi sono estremi ma c'è qualcosa oggi che non mi ha convinto pienamente spaccano tutto quello che ti pare è tutto bene acchittato mi mancano le spezie non il sale occhio non la cottura della pasta è tutto perfetto facciamoci a capire livello alto altissimo vediamo che succede però perché qua ripeto mi mancano le spezie ognuno cerca di capire cosa vuol dire che se mi sembra abbastanza chiara come metafora come metafora